E siamo live, siamo live, siamo live, siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova e ultima puntata di Deep and Crimini sulle bestie di Satana, benvenuti a tutti, buona domenica sera, una domenica sera agrodolce, ma una domenica sera perché ovviamente prima del lunedì c'è la domenica e il lunedì sappiamo che è una tragedia che il Signore ci infligge settimanalmente per ricordarci della nostra mortalità. Ho detto ciao Lucia che è al piano di sopra ma è anche su Spreaker, benvenuti a tutti, questa è l'ultima puntata della mia trattazione sulle bestie di Satana, adesso vi spiegherò poi il perché e il per come. Ciao baby, siamo anche live su Twitch oltre che su Spreaker, quindi se qualcuno vuole seguirle live ci può seguire anche su Twitch, può seguirci su Telegram dove appunto siete aggiornati in tempo reale, può seguirci e fatelo vi prego su Instagram dove ci può appunto scrivere in modo che io e Andrea rispondiamo quotidianamente a tutti i messaggi che ci arrivano, potete supportarci, voi non mi vedete ma questa sera sono più bello del solito perché sto indossando una maglietta più bella del solito, cioè sto indossando la maglietta ufficiale di Deep and Crimini, quindi che vi fa, parlo soprattutto con i maschietti, vi fa avere il doppio della prestanza quando conta. Quindi comprate tutti la maglietta di Deep and Crimini, supportateci sia gratuitamente che a pagamento, supportateci, andate sul nostro sito è tutto spiegato in modo meraviglioso e niente, quindi grazie mille per il supporto. Salutiamo anche Simo Stili, dov'è la Madda? Ah, ha scritto lei c'è la Madda, ok, ciao Madda, hai scritto incredibile c'è la Madda e io dicevo dov'è la Madda? Ma è tu, hai scritto che c'è la Madda. Buonasera a tutti. Vi ricordo che questa è Lucia che si soffia il naso perché c'è l'allergia a Milano, c'è il pollice in giro, il pollice, buonanotte, il polline in giro, quindi andate al minuto 3 se volete sentire direttamente la live. Adesso chiediamo a Lucia di smettere di soffiarsi il naso. Sono ubriaco? No, sono molto scoglionato. Oggi perché appunto sono quarantenato e quindi non ho un grande joie de vivre che mi accompagna ma detto ciò ho fatto una call to action di merda, ma va bene così, è il bello della diretta, quindi Lucia grazie basta con il naso se ti cola resisti, la vita è dura. Ciao Vale Bologna, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, Madda è tornata she's back, she's back to stay e quindi siamo tutti incredibilmente felici. Allora, devo aspettare ancora 20 secondi intanto ho l'epicondilite che mi... no non è vero, ho soltanto un po' di fastidio al braccio, sono stanco, sono debilitato sono covidato, no covid spero di no. Saluta Sofia, ciao Sofia. Ok dai iniziamo, iniziamo che sono carico. Allora, ultima puntata ultima puntata, perché ultima puntata? In realtà io volevo fare altre due slash tre puntate per una serie di motivi, perché mi sembrava di avere ancora due argomenti, motivo fondamentale e poi perché le bestie di satana a livello di ascolti stanno andando incredibilmente bene e di questo appunto vi devo ringraziare perché le bestie di satana stanno andando benissimo, di pen crimini stanno andando benissimo, questa settimana siamo stati in tendenza su Spotify, eravamo il trentesimo podcast italiano per tendenza, quasi nella top 100 globale Italia, quindi stiamo andando meravigliosamente. E quindi far qualche puntata in più ovviamente sarebbe stata una mossa di marketing molto molto astuta, ma ho deciso di non farlo perché in realtà da una parte si era un po' esaurito l'entusiasmo mio per le bestie di satana, perché si è esaurito, questo ci tengo a spiegarlo, ci tengo a spiegarlo perché mi sembra di avere un quadro complessivo della vicenda che non ha la pretesa o la presunzione di essere esaustivo, cioè cosa intendo, che non sapremo mai al 100% come sono andate le cose, ma per quanto mi riguarda e per quanto mi sembra di poter scoprire in queste mie ricerche, mi sembra di avere un quadro della situazione abbastanza delineato e definito e quindi sicuramente non aveva senso tirarla troppo per le lunghe. Ci sono un paio di aspetti di cui voglio parlare in questa puntata, cioè le altre vittime potenziali delle bestie di satana e i punti oscuri della vicenda, cioè quello che effettivamente ancora non è chiaro. Non capisco perché gli spettatori di Twitch stanno crollando, cioè quando faccio la call to action eravamo in 45 e adesso siamo in 24. Bene così. Se mi piace solo call to action io sono un fenomeno a fare call to action, posso farle 24-7. Detto questo, quindi penso che alla fine nelle mie ricerche di questa settimana sono arrivato alla conclusione che una puntata bella concentrata e bella intensa possa in realtà riassumere al meglio le cose che alla fine volevo dirvi. Vi ricordo, ma soprattutto ricordo a me stesso, che la trattazione sulle bestie di satana non era un caso da risolvere. Grazie mille baby. Grazie mille, ti mando un back. Non era un caso da risolvere. Cioè non era appunto qualcosa che dovevamo scoprire insieme, c'erano delle ricostruzioni particolari, c'erano delle situazioni particolari. Ok? Non c'era niente di tutto ciò. Era semplicemente il racconto di una storia e di una storia molto interessante, molto complessa e molto oscura. E mi sembra che siamo arrivati alla fine, alla fine di questo racconto, di questo racconto che secondo me è stato anche sufficientemente esaustivo. Ma partiamo con il tema di questa puntata. La prima cosa di cui volevo parlare sono le vittime secondarie, no? Di questa vicenda. Si parla spesso di 18 omicidi risolti, di 18 omicidi complessivi delle bestie di satana. Su Wikipedia mi sembra ce ne siano 11, una roba così. Io non so i numeri esatti ma perché non mi interessano. Sul libro che sto leggendo ma anche su altre fonti che ho consultato online si parla circa di 18 vittime complessive attribuibili alle bestie di satana. Ora, la mia domanda quando mi sono messo a studiare questa vicenda era cercare di definire in maniera un pochettino più precisa il termine attribuibile. Cioè, cosa vuol dire attribuibile? L'avevo già detto in un'altra puntata ma ci tengo a ribadirlo perché è molto importante. Gli inquirenti, ma io più che gli inquirenti intendo, cioè intendo, faccio riferimento a tutte le persone che si sono interessate al caso, fanno riferimento all'aggettivo attribuibile, cioè danno una connotazione di questo tipo. Tutte le persone che sono morte in circostanze dubbie, e poi ci torniamo su circostanze dubbie, che in qualche modo hanno avuto un collegamento con le bestie di satana. Amici, ex membri, gente che lavorava nei cimiteri, cioè qualcuno che in qualche modo è stato toccato da uno o più personaggi delle bestie di satana. Il che all'apparenza è molto molto giusto, credo io. Quando poi si vanno a indagare uno per uno si nota, meno io ho avuto questa sensazione corroborata prima da una serie di ricerche che ho fatto online e poi dal libro a cui ho fatto riferimento più di una volta in questo racconto, mi sembra che i collegamenti che all'apparenza sono così forti, uno tra questi è uno dei tre tenori, come lo definisce il libro, cioè Mario Maccione, cioè quello che confessa tutto, e nel libro che ha scritto successivamente alla condanna fa riferimento a tutta una serie di altri omicidi di cui lui però non ricorda perché era sotto effetto di droghe, ma in realtà io credo che le cose siano andate un po' diversamente, ovvero sicuramente in quegli anni, in determinate zone della Lombardia e in zone che erano frequentate da le bestie di satana, ma non solo, da tutta una serie di giovani appartenenti a un determinato tipo di controcultura, ci sono state tante morti, alcune inspiegabili, tanti suicidi, forse qualche omicidio, cioè ci sono i riferimenti a due omicidi avvenuti in un bosco che è stato frequentato anche dalle bestie di satana, dove le bestie di satana hanno fatto alcune orge, alcune festicciole, dove ci sono stati due omicidi che qualcuno ha collegato alle bestie di satana, ma in realtà erano stati degli omicidi di stampo mafioso, perché l'andrangheta in quegli anni aveva appunto una serie di problemi interni che venivano regolati appunto in quelle zone ed erano degli omicidi di stampo mafioso. Questo per dire che cosa sostanzialmente, poi faccio anche un esempio un po' più preciso, nella scorsa puntata ho parlato di un esempio, dell'esempio di Andrea Ballarin, quindi vi invito ad andare a ascoltare l'altra puntata se non l'avete ascoltata, c'è tutta la puntata secondo me la più bella di questo caso, quella su Andrea Bontade. Qual è il senso? Il senso è che a un certo punto nel 2004, quando scoppiano le bestie di satana e quando le bestie di satana sembravano davvero l'incubo che emergeva da sotto la terra, emergeva quest'incubo che ci faceva rendere conto che il mondo è un posto brutto. Molte persone, molti genitori soprattutto, che avevano perso figli e figlie in circostanze poco chiare, a un certo punto escono dalla rassegnazione di non sapere mai il perché il proprio caro si è suicidato o del perché è morto, ma trovano una potenziale verità. Tantissimi genitori si recano dagli inquirenti dicendo no, mio figlio non si è suicidato, è stato ucciso dalle bestie di satana e così via. Per gli inquirenti tutto ciò sarebbe, come si dice, grasso che cola, cioè sarebbe ulteriori condanni, ulteriori processi, ulteriore notorietà in un certo senso. In realtà spesso tutti questi casi sono stati indagati e non c'è stato nulla. Ci sono tre categorie sostanzialmente di situazioni che si potevano collegare alle bestie di satana. Suicidi di tanti ragazzi, l'adolescenza è un periodo complesso e ogni anno si suicidano tantissimi ragazzi in Italia, ancora oggi, il numero è molto alto, quasi due al giorno. Gli anni 90 sono un periodo strano per l'adolescenza e per il disagio adolescenziale, no? Basti pensare al movimento musicale che nasce a Seattle. Negli anni 90 il grunge, che fa proprio Nirvana, Alice in Chains per jam, Soundgarden e compagnia, sono tutte band che fanno del disagio dell'adolescente un po' il loro manifesto artistico. E in Italia arriva un po' dopo, ok? E questo disagio scoppia e ci sono tanti suicidi. In realtà non ci sono soltanto in Lombardia in quelle zone, ci sono in tutta Italia, ma in realtà ci sono in tutta Europa una serie di suicidi, di suicidi strani. Questa è una cosa ciclica, possiamo dire, ci sono dei periodi che sono più, purtroppo più indicati a favorire questa problematica molto molto grave. È chiaro che quando ti si suicida un figlio, una figlia, magari adolescente, magari minorenne, magari un adolescente che ritenevi sì, magari con qualche problema, con qualche stravaganza, ma tutto sommato un bravo ragazzo, ti crolla il mondo addosso, la vita perde, no? Del significato che prima aveva, il dolore diventa l'unica compagnia delle tue giornate e l'unica cosa che pensi possa alleviare questa sofferenza è conoscere la motivazione. Quindi voi immaginate la potenza delle bestie di Satana dentro la vita di alcune persone. Mi è rimasto impresso la madre di uno di questi ragazzi, non mi ricordo esattamente il nome, se lo trovo al volo ve lo riporto, ma devo provarci, non è detto. Mi è rimasta impressa la storia di... un secondo che forse l'ho trovato... sì, è la storia di Doriano Dolla. Doriano Dolla è un ragazzo normale, ha 24 anni e il 26, questo ve lo voglio raccontare proprio per farvi capire la sofferenza che si vive all'interno di alcune situazioni. Le bestie di Satana sono la storia che ho raccontato sicuramente con più dolore, con più sofferenza complessiva. Doriano ha 24 anni e la sera del 26 dicembre, quindi il giorno dopo Natale, esce la sera e non farà mai più ritorno, verrà trovato nel parco del Ticino impiccato e sua madre non si darà mai pace per questa cosa. Ad un certo punto lei, la madre, si convince che sono state le bestie di Satana, perché lui aveva avuto una serie di intrallazzi con alcuni componenti delle bestie di Satana, ma mai nulla di troppo, di troppo profondo e radicato. Questa donna che è distrutta dalla depressione, perché prima della morte del figlio c'era stata anche la morte del marito, quindi una vita segnata dalla perdita, ebbene questa donna a un certo punto, divorata e distrutta dalla depressione, pensa che suo figlio non si sia ucciso, ma sia stato ucciso da Andrea Volpe, Maccione e compagnia. E quindi inizia questa battaglia personale per far emergere la verità. Gli inquirenti indagaranno, indagaranno a fondo, e come dissi nel caso di Michele Tollis, anche per un sentimento secondo me di un senso di colpa, no? Perché è come se dovessero andare a controbilanciare il non lavoro fatto prima, e quindi adesso indagavano con grande attenzione, ma non troveranno nulla. E quando il giudice chiuderà il caso dicendo appunto che è stato un suicidio, la madre di Doriano tornerà a casa e si impiccherà in bagno. Quindi voi immaginate la sofferenza, immaginate cosa significava per questi genitori la possibilità di venire a sapere che il figlio non si era suicidato ma che era stato ucciso, no? Poteva dare un significato completamente diverso alla loro vita. Per quanto mi riguarda, io non vedo dei collegamenti obiettivamente particolarmente forti tra le bestie di Satana, che io continuo a chiamare così in modo che sia più semplice, ma che vi ho già spiegato nella scorsa puntata, come non mi sembra che si possa definire né una setta né un culto satanico o particolarmente strano. È vero che alcuni componenti della setta, volpe e maccione in primis, fanno velati volpe, meno velati, maccione, riferimenti a una serie di altri omicidi, suicidi e... in questa situazione. Ma, ripeto, sono tutte situazioni secondo me al limite. Vi faccio un altro esempio. Stefano Longone viene, maccione a un certo punto dice che, o guerriere, o maccione o guerriere, uno dei due, non mi ricordo, fa riferimento alla vicenda di Stefano Longone, che viene, secondo appunto uno di questi due pentiti, adesso non mi ricordo chi è dei due, ma non è importante, che viene drogato dalla setta perché voleva essere appunto indotto al suicidio. Longone finirà investito da un camion quando lui era a bordo di questa bicicletta su cui era solito muoversi e in realtà verrà dichiarato un clamoroso incidente, nel senso che il conducente non ha visto il camion, non vede il ragazzo, svolta a destra senza mettere la freccia e il povero Stefano viene travolto in piena e muove sul colpo. Questo è uno degli esempi, no? Cioè, tutti coloro che avevano dei motivi per tentare di collegare una morte strana alle bestie di Satana, lo fecero. Così come c'è il caso di un altro ragazzo che era un po' più grande, che morì, che era il guardiano di questo cimitero, che morì in circostanze un po' strane e quindi anche lì le bestie di Satana. Cioè, mi sembra francamente che niente fu mai provato, io sapete che faccio riferimento soltanto alle cose che sono state poi effettivamente provate. E perché dico che niente fu provato e questa cosa è importante? Perché la procura aveva tutto il vantaggio a trovare altri elementi. Perché? Voi immaginate quanto è stata, quanto è entrata nella cultura popolare l'espressione le bestie di Satana. Tutti hanno un riferimento alle bestie di Satana, che sono state comunque un oggetto misterioso che è entrato dentro le case degli italiani all'inizio del 2000 e che c'è rimasto e che ogni volta che se ne riparla c'è sempre quel brividino alla schiena. E gli omicidi certi sono quattro, se aggiungiamo bontade su cui possiamo avere dei dubbi, ma diciamo quattro con bontade. Voi immaginate fossero stati venti. Cioè immaginate la portata dei processi, delle, delle, della narrazione giornalistica, televisiva, documentaristica di questa. Sarebbe stata cento volte. Cioè sarebbe stata esponenzialmente più grande. E quindi tutti avrebbero avuto dei vantaggi a collegare 10, 12, 13, 14 altri omicidi. E sono sicuro, perché c'è anche lì un velato riferimento nella sentenza dove si parla di altri possibili collegamenti, sono sicuro che si sia indagato in tal senso. Perché è ovviamente stato indagato in tal senso. E il fatto, è interessante secondo me, è il fatto che nonostante non vengano trovati degli elementi che collegano tutti questi omicidi, comunque da Wikipedia, che è secondo me la pagina più comune che uno va a visitare, comunque si fa riferimento agli altri omicidi. Nonostante la procura non abbia mai provato niente. Io resto dell'idea che tutti questi altri omicidi non siano legati. Omicidi o morti in generale, non dovrei dire omicidi, non siano legati alle bestie di Satana, ma siano semplicemente legati a una congiunzione astrale sfortunata di quel periodo che ha provocato morti, suicidi, incidenti, no? E che ha provocato la morte di tanti ragazzi. E droga, anche, ovviamente. E che ha provocato la morte di tanti ragazzi e che poi loro, nella loro vita, a un certo punto abbiano parlato una volta con un membro delle bestie di Satana, secondo me, non è necessariamente l'indice, no, di questa cosa. Quindi questo era quello che volevo dire in una ventina di minuti su le morti che si collegano. Sinceramente non ho notato, in quelle che ho letto io, in quelle che ho studiato io, in quelle che ho approfondito io, nessun collegamento netto con le bestie di Satana. Anche perché, e poi arriviamo all'altro punto di questa live, cioè della live conclusiva, se volete possiamo fare una live dove, appunto, facciamo qualche domanda e risposta, no? Dove mi fate qualche domanda e risposta. Se, appunto, siete interessati martedì potremmo fare una live così, dove voi mi fate qualche domanda e mi mandate le vostre considerazioni su Telegram, su Instagram e io le leggo in live. Sarebbe molto interessante, quindi fatemi sapere se siete interessati a questa cosa. Quindi questa è la puntata finale per quanto riguarda me e la mia visione del caso. Io, come ho già fatto intuire, sono profondamente in disaccordo con chi vede, solo per il sostenitore, è giusto, con chi vede la setta in qualche modo collegata al diavolo e all'esoterismo. Mi sembrano semplicemente un gruppo di amici molto esuberante con molti problemi di droga e alcuni elementi di questo, ecco, questo mi collego all'argomento nuovo, e alcuni elementi di questo gruppo hanno preso una deriva violenta sia all'interno del gruppo, sia verso, appunto, persone esterne al gruppo, piuttosto forti. Quando parlavo, già nella introduzione, mai un mesetto fa, alle bestie di Satana, facevo riferimento alle posizioni di Monterosso, Zampollo e Paolo Leoni, come quelle di persone che obiettivamente, se uno legge la sentenza e se uno legge gli elementi, c'è qualcosa che non quadra. Vi do un attimo il quadro della situazione. Ormai mi sento più in grado di farlo perché siete entrati un po' dentro la vicenda anche a livello di nomi, no? Sapete adesso che mi sto riferendo. Nicola Sapone, che sappiamo con certezza quasi matematica essere stato presente sia nell'omicidio di Mariangela Pezzotta, sia nel duplice omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis, mi ricordo andato a un doppio ergastolo, è vero benissimo. Paolo Leoni, che invece sappiamo con certezza non essere stato presente a nessuno dei due, ma vediamo poi per cosa è stato condannato, prende ergastolo e isolamento di urno di nove mesi. Eros Monterosso, che sappiamo esattamente, sappiamo anche qua certamente che non era presente in nessuna delle sue situazioni, prende 27 anni e tre mesi. E Marco Zampollo prende 29 anni e tre mesi, poi gli avevano tolto alcuni anni. E Zampollo, sappiamo anche lui, non era presente in nessuna delle due azioni omicidiari. Pietro Guerrieri prende 12 anni e 8 mesi, ne sconta 7. Andrea Volpe, che invece rappresenta in tutte e due esattamente come Nicola Sapone, per aver collaborato con la giustizia, prende 20 anni, al posto che è il doppio ergastolo, prende 20 anni, ma ne sconta 16. Macione, siccome era minorenne all'epoca del primo omicidio, perché lui non è presente nella seconda azione omicidaria, ma è presente nella prima, dove era minorenne, prende 19 anni e mezzo, ma ne fa solo 13, poi esce per buona condotta. Quindi la prima cosa che salta all'occhio, che è stato un po' il motivo, se vogliamo, che mi ha spinto, è stata la prima, scusate, è stata la cosa che mi ha spinto anni fa a interessarmi al caso e che poi mi ha spinto più recentemente a portarlo qua. Mi ha fatto impressione, così ovviamente io non so nulla di giurisprudenza e non ho sempre detto che non capisco nulla e che anzi se c'è qualcuno che mi spiega poi nel dettaglio questa cosa ne sarei felice, però così mi sembra strano come, è vero che ci sono tre collaboratori, cioè tre persone che collaborano, ma che chi ha partecipato attivamente, a parte Sapone, prenda normalmente la metà circa e abbia passato la metà del tempo in prigione rispetto a chi sappiamo matematicamente non aver partecipato. questo è già una cosa che mi fa un attimo fermare e dire ok, capiamo un attimo qual è la situazione. Sicuramente ci sono delle prove gravissime contro Monte Rosso, Paolo Leoni e Zampollo. La prima cosa che uno pensa e se vede per esempio tutti i documentari diciamo più mainstream da Luca Relli a compagnia, Paolo Leoni è il capo delle bestie di Satana. E quindi cosa vuol dire? Che è il capo di una setta satanica. Va bene, ma i giudici dicono che la setta satanica in sé non è mai esistita. Perché lo dicono? Perché non c'è mai stata, l'ho spiegato nella scorsa puntata, quindi non mi fate tornare indietro di una settimana. I giudici dicono, la setta satanica, come la intendiamo, non esiste. Quindi Paolo Leoni non può essere il capo di una setta che non esiste. Ok. E cito Paolo Leoni per primo perché è molto interessante la sua storia. E tornate ad ascoltarvi, così vi ritorno in mente, alla fine di questa puntata. Andate ad ascoltarvi la seconda puntata di questa serie sui protagonisti. Paolo Leoni che aveva il padre, omicida, satanista, pazzo, scatenato, famiglia disastrata. Mi fa molto effetto, perché Paolo Leoni in realtà viene chiamato, viene dichiarato colpevole come mente e come appunto colui capo, questa è Lucia che continua a salvartire, questa è mente e ideatore insieme a Zampollo, Monterosso, Volpe, Sapone e compagnia, del duplice omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis. e si accorgono che nella narrazione che fa la procura c'è un problema. Cioè la procura dice, corroborata da una dichiarazione della madre di Chiara che però poi si smentisce e si corregge, dice che Paolo Leoni il 17 gennaio del 1998 che era un sabato, e Lucia sono con te in questa sofferenza, dice Francesca, anch'io sono con lei in questa sofferenza, il 17 gennaio del 1998, a Luna, Paolo Leoni va a prendere il motorino di Chiara e Chiara, quindi va a prendere lei, per andare alla fiera di Senigaglia poi la sera andranno al midnight e ci sarà il duplice omicidio in realtà Paolo Leoni, lui con chiaramente il suo pool difensivo, dimostra in maniera incontrovertibile che lui, quel pomeriggio, non poteva aver fatto queste cose. Perché? Perché era a lavoro. Lui lavorava alla metro, c'era un badge timbrato dove lui era fuori soltanto per un 40 minuti, fuori, attenzione, fuori dallo stabilimento dove lavorava, ma non dalla metro, c'era fuori nel senso che non era nel suo reparto lui era nel reparto pesce e non era lì in quel momento perché aveva la pausa pranzo ma che era uscito da lavoro alle 8 di sera, quindi lui di sicuro prima delle 8 non poteva essere andato alla fiera di Senigaglia. E cosa dichiarano tutti quelli che parlano ovviamente, quindi Massimino Magni, Mario Maccione, Andrea Volpe, Pietro Guerrieri che lui era alla fiera di Senigaglia. Cioè, lui viene condannato per una testimonianza che è chiaramente finta, perché in quel momento lui non può essere lì perché lo dimostra e non solo porta il badge, porta il suo superiore e il responsabile della metro che dice che nessuno può allontanarsi per 7 ore non essere visto. E che la madre dichiara, si ricorda la scena del motorino, che non è il 17 gennaio ma è il 18 gennaio. Perché il 18 gennaio lui e Zampollo, scusate il 19 gennaio, quando il giorno dopo la scomparsa, vanno e prendono un motorino di Chiara per andare a Parco Sempione a capire cosa è successo a Chiara e a Fabio. Attenzione a una cosa, io non voglio far passare Paolo Leoni come il santo, come padre Pio, perché di sicuro non era padre Pio, di sicuro ha fatto di essere cagate nella vita. E io vi dico anche di più, sono convinto che Paolo Leoni sapesse, magari non la sera stessa del duplice omicidio, ma sicuramente nelle settimane successive si sia fatto un'idea molto precisa di cosa era successo e che magari gli era anche stato raccontato. E non escludo che Zampollo e Monte Rosso allo stesso modo sapessero la fine che hanno fatto Chiara e Fabio. Ma la differenza che c'è tra sono partecipe di un omicidio, cioè l'ho ideato io, l'ho pianificato io e l'ho deciso io, poi l'ha fatto qualcun altro. Quindi la differenza tra questo e sapere che dei miei amici hanno commesso l'omicidio è molto diverso. E anche se le persone confessano l'omicidio, tra l'altro in maniera stampalata, con mille discrepanze, mille cose, non posso prendere 30 anni, loro ne prendono 20, perché se no c'è un problema, perché se no allora quello che dice Medellia, che non è un cellulare piccolo, dice non è un caso che i pentiti abbiano canciato così tante balle, ogni ballo ha uno sconto, certo. E' questo che torniamo al discorso, che Maccione, che a un certo punto fuso dai fumi delle droghe, ne spara di tutti i colori, spiriti, terzo livello, poi parliamo anche del quarto o quinto livello, tanto sanno che più la sparano più vengono creduti. Ma Paolo Leoni non poteva essere lì. Certo che c'era la sera, certo che c'era la sera, al midnight, ma era il midnight, come confermato da decine di testimoni. E quando arriva Michele Tollis, in cerca di suo figlio, gli dice si è appartato con Chiara, perché così gli era stato riferito, e lui dira sempre questa cosa. Quindi già notiamo la differenza. Zampolla e Monterosso perché sono condannati esattamente? Sono condannati perché sono tirati dentro da Pietro Guerrieri. Anche qui andatevi a ascoltarvi la sua storia, perché è molto molto interessante. E Pietro Guerrieri cosa dice esattamente? Pietro Guerrieri è quello che dei tre confessa in modo più neutro, no? È quello che dice una cosa ma non la finisce, è quello che si sbottona meno. È quello che probabilmente è più furbo, nel senso che fa intuire delle cose, dice delle cose, non si sbottona mai troppo, resta sempre abbastanza vago, non entra mai nei dettagli, però dice due frasi e io per quanto ho capito in quelle praticamente sono le due frasi che condannano due persone praticamente a un ergastolo, che sono le seguenti. Adesso le vado a prendere. Esatto. A un certo punto, un giorno, quando secondo Guerrieri si decide l'omicidio di Fabio Tollis e Chiara Marino, cioè c'è una riunione, non si sa che giorno è stata, chi c'era, chi non c'era, perché, non si sa, però c'è questa riunione, immaginiamola, dove ci sono tutti i capi, si decide l'omicidio di Chiara Marino e Fabio Tollis. Anche qua, muovente, non si capisce, va bene, ma ne abbiamo già parlato, quindi non voglio tornarci. Eros avrebbe detto a Pietro, in disparte, questa frase. Questa è una setta e da qui non si può uscire, tranne che da morti. Un'altra situazione, Marco Zampollo avrebbe detto, sempre a Pietro da solo, perché la gente si confessava Pietro, con frasi incriminanti, solo a Pietro. E gli diceva, se uno tradisce, può passare, questa è sempre Lucia, può passare un anno, dieci anni, vent'anni, ma noi ci saremo e gliela faremo pagare. Per queste due frasi, loro vengono condannati, perché secondo i giudici loro non potevano non sapere essendo stati presenti a quella riunione. E il perché quando poi sono intercettati, dalle intercettazioni successive non parlano mai di questa cosa? Perché è evidente, secondo i giudici, che loro, per precauzione, non parlassero mai di questa cosa. Ma che si davano appuntamenti strani. Siamo alla follia. Non c'è nulla, se non delle fantomatiche riunioni, di cui non c'è mai avuta una mezza prova, c'è una mezza location, una mezza verità. E Zampollo e Monte Rosso vengono condannati, perché non potevano non sapere. Essendo parte di una setta, lasciamo stare che poi la setta non esiste, secondo i giudici. Essendo parte di una setta che non esiste, non potevano non sapere che alcuni membri della setta, tra cui loro, anche se non lo sapevano, avevano deciso di fare degli amici. Capite che poi la situazione è complessa. Io, ora, siccome siamo al trentasesimo minuto della live, vorrei anche arrivare alle conclusioni di questo caso, che mi ha dato molte soddisfazioni, che mi è piaciuto molto e di cui sono estremamente soddisfatto. Vi dico un po' come l'ho vissuta io. E come penso io, se ne andate le cose, ripeto, partendo dal presupposto che di sicuro non sono andate esattamente come dico io, perché chissà quante migliaia di altre situazioni non conosco e non ho potuto studiare, ma secondo me più o meno è andata così. Nel 96 nasce questo gruppo d'amici, così come tutti i gruppi d'amici, no? Cioè una serie di conoscenze comuni, una serie di luoghi, il Midnight, la fiera di Senigallia, i concerti metal, Parco Sempione. Una certa passione comune, alcune passioni comune per certe tematiche. L'occultismo, sappiamo di sicuro che tanti membri di questo gruppo avevano una passione per l'occultismo, ma io non penso che sia illegale avere una passione per l'occultismo. Passione per la musica metal, benissimo. Passione per le droghe. Un po' meno bene, secondo me va bene uguale. Una passione in generale per un certo tipo di trasgressione. Ecco io me la vedo come dei ragazzi che avevano bisogno e voglia di trasgredire, perché la vita in quel momento per molti di loro, non per tutti, ma per molti di loro, ma poi per le personalità forti di questo gruppo, era stata una serie di semafori rossi uno dietro l'altro. Era stata una serie di muri in faccia uno dietro l'altro. E quindi quando, e questa è anche qua la storia di Caino e Abele, no? Quando Caino compie i sacrifici ma non viene mai ricompensato, ammazza Abele. E quindi c'era questo bisogno di trasgredire, perché la vita non era stata magnanima con loro. Erano persone non particolarmente dotate, probabilmente, avevano una vita difficile, avevano una situazione familiare più delle volte disastrosa, flirtavano con depressione, problemi mentali gravi, quindi cose molto serie. In più ci aggiungiamo un periodo difficile dal punto di vista proprio di crescita, di sviluppo personale per molti di loro, mettiamo tutti insieme e abbiamo un cocktail esplosivo. Questo gruppo di amici sappiamo, perché ce lo raccontano più persone anche al di fuori, che si trovavano per fare delle feste anche piuttosto spinte, che c'era anche della violenza all'interno di questo gruppo, alcuni venivano marchiati, c'erano dei morsi, qualcuno si spegneva le sigarette addosso da solo, qualcuno spegneva le sigarette addosso ad altri, cioè c'era una componente un po' masochista, un po' sadica dentro questo gruppo, ognuno poi è libero di far parte di questi gruppi o no, a me può piacere può non piacere, ma questo è quanto. All'interno, quindi, che poi abbiano fatto delle sedute spiritiche, anche un po' per scherzare, perché erano un po' bevuti, perché avevano un po' voglia di anche lì di portare l'ignoto, l'oscurità, l'occultismo, il satanismo a un passo successivo, ma sicuramente l'avranno fatto, che avranno evoca, avranno tentato di evocare uno spirito, ma sicuramente avranno tentato di evocare uno spirito, ma per carità di Dio, ma questo è quello che secondo me era questo gruppo, quindi degli amici con gravi problemi di partenza, accentuati dalla dinamica del gruppo e dall'uso di droghe e alcol, quindi una vita fatta di trasgressioni e di eccessi, in tutti i sensi, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista degli stupefacenti, dal punto di vista musicale anche, quindi proprio un cocktail esplosivo. All'interno di questo gruppo, persone che probabilmente hanno preso una deriva più violenta e una deriva che poi è sfociata inizialmente in un duplice omicidio, quello di Chiara e quello di Fabio, che secondo me è l'incipit delle bestie di satana come le intendiamo noi, cioè come gruppo criminale, perché prima in realtà non fanno nulla di criminale. C'è questa doppia uccisione, lì il gruppo inizia a sfaldarsi, attenzione anche questa cosa, perché poi il gruppo non continua a uscire tutte le sere, il gruppo inizia a sfaldarsi, Guerrieri esce dal gruppo per esempio nel 98, nonostante poi dica che Monte Rosso e Zampolo gli dicono che se si esce viene ucciso, lui esce dal gruppo lo stesso anno. Il gruppo inizia a sfaldarsi, poi certo che ci sono dei legami però in questo gruppo che rimangono importanti. Volpe e Sapone sono legati, e aggiungo io, Volpe e Sapone e i Maccione sono legati da un filo a rosso invisibile ma potentissimo, perché insieme hanno ucciso Chiara Marino e Fabio Tollis e quindi notiamo cosa succede, questa cosa non l'ho mai detta, la dico adesso, notiamo cosa succede la sera del 24 gennaio del 2004 quando viene uccisa Maria Angela Pezzotta. Chi chiama Volpe? Chiama due persone, subito, appena uccide, appena si risveglia dallo sparo, ma chiama due persone. Le persone a cui è legato indissolubilmente da quello che è successo sei anni prima. Chiama Nicola Sapone che arriverà subito ad aiutarlo nel cuore della notte e chiama Maria Maccione che non gli risponde. A quel punto chiama Zampollo che è in una sala prove da tutt'altra parte, che gli dice, siccome è amico e ha perso quasi completamente i legami con Sapone, con Volpe, con quella parte della setta, Zampollo dice guarda sicuramente Mario sarà con la sua fidanzata, chiama lei, Sonia, mi sembra che si chiami. A quel punto Volpe chiama Sonia e parlerà al telefono e la trascrizione delle telefonate mostra esattamente quest'ordine. Quindi Sapone, Maccione, Maccione non risponde, Zampollo è subito dopo la fidanzata. Esattamente come testimoniato da Zampollo. Allora notiamo che all'interno del gruppo ci sono dei microgruppi, delle cellule che si staccano e ci sono dei rapporti troppo forti per essere rotti. Perché sanno benissimo Nicola Sapone, Mario Maccione e Andrea Volpe cosa hanno fatto a Fabio e a Chiara. E sanno che sono legati per sempre. E ovviamente chi può rovinare tutto perché alla fine l'hanno fatta franca. L'hanno fatta franca perché non li ha scoperati nessuno e perché le persone che potevano essere a conoscenza di questa cosa, per esempio Guerrieri, perché ha scavato la fossa, era stato in silenzio. Per esempio Bontade, si era ammazzato. Io come dice Gualtiero sono convinto che Paolo Leoni sapesse di queste cose. Che magari non si era sporcato le mani perché aveva visto suo padre che aveva fatto la galera, aveva visto come erano andate le cose da suo padre, quindi non voleva sporcarsi le mani. Ma sicuramente io sono certo, poi non lo saprò mai, ma non è importante. Ma io sono convinto che Paolo Leoni fosse a conoscenza dei piani degli altri. Non saprei dare una motivazione. Io ve l'ho detto, ho provato a dare una serie di moventi possibili per l'omicidio di Chiara, ma io non saprei mettere un nichelino su il movente vero, sul perché ci sia stato quel duplice omicidio, che è quello che mi fa pensare, mi fa star sveglio la notte. Perché l'omicidio di Maria Angela Pezzotta, per quanto sia tragico, per quanto sia l'emblema della relazione tossica, per quanto sia l'emblema dell'uomo che, dell'uomo tossico che governa una donna, e della cosa più sbagliata di una relazione, è un omicidio molto chiaro. Finisce i soldi, lui e la ballerina finiscono i soldi, sono drogati, hanno fame, hanno sete, ha dei debiti, volpe ha dei debiti, lo dirà in un'intercettazione con i suoi genitori, e chi chiama? Chiama la sua certezza, chiama Maria Angela, chi gli ha sempre dato i soldi, c'è sempre stato. Al rifiuto di lei c'è il raptus. Quello è un omicidio chiaro, per me, poi magari non è andato così, ma per me è un omicidio chiaro. Metto quel duplice omicidio è molto più fumoso, è molto più misterioso, è molto più inspiegabile. Dice, perché Mario Maccione massacra il suo migliore amico? Perché Chiara Marino viene uccisa in quel modo? E se, come dice Medellia, e io sono d'accordo con quello che dice Medellia, scusate, che leggo piccolo il nome, Paolo Leoni era amico di Chiara Marino, nonostante un rapporto con me era amico, perché permette quell'omicidio e non dice niente? Quello sì che è un omicidio che, anzi un duplice omicidio, non si capisce niente. Ma la mia questione sul coinvolgimento di Monterosso, Zampollo e Leoni non è una questione di saperlo o non saperlo. Zampollo e Monterosso, secondo me, è possibile che non sapessero? O che abbiano fatto finta di non sapere? O che effettivamente non sapessero? Io, su di loro, da quello che ho letto, sulle sentenze e tutto, se dovessi mettere un euro lo metterai sul fatto che non sapesse, mentre su Leoni lo metterai sul fatto che sapesse. Ma come si fanno a condannare? A più anni di chi effettivamente ha commesso gli omicidi? Sì, collaborando, però poi collaborare diventa difficile se non ho fatto niente, perché se no entriamo in una logica dove, per non prendere trent'anni, confesso qualsiasi cosa. Perché poi è quello il punto dopo, perché Volpe, che chiaramente ha confessato la qualunque, e se confesso mille cose, di cui cento sono successe e novecento no, non è che posso prendere solo quelle cento, perché vi avevo fatto l'esempio di Andrea Ballarin e tutto quanto. Quindi Volpe, che a un certo punto capisce che più spara, meno sta in prigione, spara a qualunque. Marcioni scrive un libro delirante, io gli strati colletti sono deliranti, dove non fanno altro che confessare delle cose successe, dove loro non hanno colpa, sono nelle mani di sapone, leoni e compagnie. Marcioni a un certo punto nel libro, in una cosa che ho letto, dice che sostanzialmente il capo, cioè quello con la zucca, lì dentro era Zampollo. Zampollo, voi andate a cercare una foto di Zampollo, Zampollo è alto un metro, un e cinquanta, però con gli occhiali, una persona anche poco piacevole alla vista, se vogliamo, quindi io poi tendo a confondere spesso litica ed estetica, ma al di là di questo discorso, un discorso astrologico, ma da poi ne parliamo. È difficile credere che Zampollo, anche proprio dalla personalità che emerge dalle sue parole, fosse il capo di questa setta. Poi quanti cazzo di capo aveva questa setta? Una volta è sapone, una volta è volpe, una volta è leoni, una volta è zampo, cioè mille capi. È difficile immaginare che sia necessariamente così. E quindi questo è quello che volevo dirvi, io ritengo questi tre elementi, ma in realtà tutte le persone che hanno gravitato intorno a questo gruppo come innocenti, con un asterisco, nel senso che magari sapevano, ma grazie mille Bebo per il Prime, ti mando un bacio, un cuore, grazie mille. E quindi questo. Io li ritengo innocenti, mentre secondo me le pene che sono state commutate a volpe e soprattutto a maccione, ma anche a guerrieri, perché ha scavato la fossa di Chiara e Fabio, sono state delle pene assolutamente non adatte a quello che hanno fatto. Questa è una storia, con questo chiudo, che è una storia di dolore, una storia di sofferenza ed è una storia di... è una storia di... che ha toccato centinaia di persone ed è una storia che ci insegna delle cose, no? Ce le insegna la puntata su Andrea Montade, ce le insegna la storia di Elisabetta e della sua... del suo fidarsi della persona sbagliata, del suo innamorarsi della persona sbagliata. È una storia che ci insegna delle cose, ma non è una storia di satanismo. Non è una storia di satanismo, non è una storia di un gruppo che... grazie Alberto, non è una storia dove satana ordina dei ragazzi di commettere gli omicidi e dove il signore oscuro pretende sacrifici di sangue per accrescere la sua forza, no? Simil Voldemort. Non è questo il caso, secondo me. È un caso molto più semplice, molto più terra-terra, molto più... molto più comune, se vogliamo. Io vi ringrazio perché è stare su Lucia, se smette di soffiarsi il naso, io vi ringrazio come devo. Ok, ha finito. Poverina, c'ha l'allergia, quindi capitela. La prossima volta la chiudo in cantina o trovo comunque dove metterla. Sto scherzando, ovviamente. Quindi io vi ringrazio per tutto il supporto che ci state dando in questi giorni. Le bestie di satan sono andate benissimo, quindi io vi ringrazio. Deep in Criminy prenderà una piccola pausa, una settimana, due settimane, tre settimane, non lo so, comunque qualche giorno di pausa sicuramente me lo prendo, anche perché la scuola adesso è un delirio, quindi ho bisogno di qualche giorno di pausa. Vi ricordo che non è l'unico podcast che abbiamo, ma c'è anche Deep in Scienza che sta andando molto bene. Zappa ha iniziato una serie molto molto interessante su le droghe e ha fatto già puntata sia sull'eroina che sull'alcol, quindi andate ad ascoltarlo, che è molto molto interessante da un punto di vista scientifico, quindi andate ad ascoltarlo perché è molto interessante e fateci, fategli scusate gli auguri perché ieri era fatto a 30 anni e quindi andate a intasare Telegram e fategli... stavo leggendo questo trollone qua alla fregna 98, mi fa ridere, e quindi fategli gli auguri in modo privato. Io intanto vi saluto e vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, da palla.